Allora, sì che potremmo fare oggi? Davvero oggi che potremmo parlare? Beh per tutto posso stimare tutto e vai con la sigla Non so ancora che ricordarmi di te Che persone può stare con me Mi segui ancora a quelle scale Dopo ogni tu le insegui ancora Mi spieghi che le tue passioni sono meglio delle mie O meno neppi un tempo di fiori che stanno passando E vado che sei chiusa di quel segno Che vorresti anche tu Ma è una costellazione, è tu Non lo so, non posso dirtelo Vicino a quello, vicino a quello Ora che in questo momento Sotto già nel maria Che è Beh Una cosa molto bella Beh Beh In realtà Non c'è dall'osco però Una cosa molto bella L'osco Non c'è dall'osco Sì, sono vicina. Beh, di che potremmo parlare oggi? Beh, potremmo combattere. Ma tu io ti obbio a te combattere. Ed è una vita che lo facciamo. Lo facciamo tutti. Dai, due allenanti, due veramente allenanti. Ma sei avuto di sinistra cosa? Ti piace veramente soffrire? Nel dire? Soffrire. Ammettilo. Eccolo. Eccolo la tua carta. Così mi è stato il sogno perché tu anche tu vorresti un sempre. 25 cancro e mettilo. Non ero. 55. Cancro. Sei del cancro. Beh, dico, mi sembra un po'. Beh, ci vorrà da carissimo quella è vera. Sì, andrò. Se per me o chiarire chi è andato, chi è andato, chi è andato. Però no, potremmo sul mio. Mascono. Sì, andrò. Essere. Qu dire. Sì. a presto Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Oh, guardate, ho detto che non è una monta, la testa è una nuova, la testa è una nuova, la testa è una nuova. Questa nota vale... Beh, questa nota vale... Sto nemmeno una monta. Questa nota vale 1, 2, 1 più 1 fa 2. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1... 6, 6... Mi piace la storia di mettere da me, sono davvero migliore di mettere da me, sono davvero davvero molto. Questa è un giro. Ah, no, no. O, c'è il proprio troppo, non c'è stato vedete. Non c'è questo. Non lo vedo mai. 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 3 3 4 4 5 5 5 6 6 Grazie. Grazie.